Ma c'è una droga che non consigli? Cioè che dice questa proprio... evitala. Adesso voi mi state facendo fare una pessima figura. No, no, scherzo. Per cui... No. Buonasera a tutti e buonasera a tutti. Benvenuti alla puntata numero 167 di Tintoria. Applausi. Vamos. Alla mia destra, alla co-conduzione, ragazzo molto carino, Stefano Rapone. Ci troviamo a Milano, ci troviamo... ecco qua. Grazie. Questa è Milano, catcalling, subito. Eh, lo so, lo so. Però Milano è così. Mi capita sempre. Milano è così. Però catcalling è di un uomo a un uomo e quindi va benissimo, anzi. Sì, 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 è apprezzatissimo ancora di più. È certo. No, come Roma, dove invece... Che ti dicono a Roma? A coglione, invece. Qua, apprezzato. Subito ho sbagliato, vedi? Sì, sì, sì. Ho sbagliato immediatamente. È diventato immediatamente una cosa vagamente omofoba, subito. Non volevo. E sto ricalcando sopra. Oggi è anche il giorno in cui si festeggia gli omosessuali. No? Vero? Che... Che vuol dire? È vero? Cioè, Repubblica era tutta arcobaleno, perché... Ah, oggi. Perché mi sa che hanno tolto... Adesso non sei fuori di gag. Hanno tolto l'omosessualità dalla lista delle malattie... Oggi? Lo scop... Nel 2000... No, tanto tempo fa, però io l'ho scoperto oggi che non è più una malattia. Quindi festeggiamo per questa cosa che comunque sono... Ah, non lo serve. Madonna, ho iniziato malissimo. Sì, sì, sì. Che tremendo. Vabbè, prendiamo che la ripartiamo da qua. Buonasera a tutti, no? Buonasera a tutti e a tutti gli omosessuali. Sì, buonasera a tutti. Sì. Vabbè, sì. Così, includiamo tutti. Non volevo. Subito mi sono posto come nemico, ho sbagliato. Eh no, hai fatto bene. Vabbè, ci troviamo a Milano, stavo dicendo. Poi, vedi, quel catcalling mi ha mandato in confusione. Siamo in santeria e siamo sempre coprodotti da The Comedy Club. Stefano, come stai? Bene, dai. È stato un po' faticoso arrivare qua. Però... Ecco qua. Qua vedi? Qua i picchieri sono di plastica. Quindi comunque non c'è... Scelta meno ecologica rispetto a Roma. Bella provocazione. Vedi? Mi sa che c'hai ragione. Vedi? Vedi. Però non si sente crash, crash che comunque... No, infatti. È abbastanza. Va bene, comunque abbiamo fatto un par d'ore di ritardo con il treno. Pure oggi. Cinque ore e mezza a Roma-Milano che ci saremmo risparmiati. Sì. Di cui due ore fermi dentro un tunnel dopo Firenze. Quindi comunque sia due ore fermi nell'oscurità totale. Sì. Ce le saremmo risparmiate. Però... Per essere qua in mezzo agli omosessuali... Sì. Oramai... L'unico modo per riacchiappare la puntata dice andare all'inno. Va bene, sono d'accordo. Sono d'accordo. Sì, tutto come va? Molto male, grazie. Stai... Sono tutto congestionato. Sto prendendo vari farmaci per essere qui, tra i nostri fratelli. Però ho detto il giorno fortunato, visto l'ospite che avremo. Ci pensiamo. Quindi... Sì. Che... Infatti mi sento già meglio ora che me lo... No, ma infatti... Cioè, sto a fare più che altro scena, è una cosa teatrale. Sì. Però no, sì, sono tutto un po' congestionato. Ho fatto i vari tamponi del caso. Anche un tampone per lo streptococco, che mi hanno detto... Sta a girare. E io ho fatto il tampone, per essere sicuro. Positivo pure a quello. No, 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 no. Negativo allo streptococco, non sapevo cosa fosse negativo. È stato un... Viaggio lungo. Ah, sì, no. Provante. È successa questa cosa. Quando siamo arrivati, siamo scesi a Rocorido, abbiamo preso il taxi. E siamo saliti sul taxi e il tassista dal nulla, un signore che andava per gli 80, ci ha detto... Come mi pagate? Questa è la sua prima domanda. E lui mi ha detto... Con la carta. E questo è stato tipo la pistola dello start nei 5.000 metri agli Olimpiadi. Perché da lì non si è più fermato. Ha detto... Ah, queste carte. Perché voi a cosa non pensate quando non usate contanti? Che voi togliete lavoro a tantissime persone. Perché con le carte cosa succede? Chiudono le filiali delle banche. E quindi tutte le persone che ci lavorano dentro perdono il lavoro. E anche le imprese di pulizie che le devono pulire. La guardia giurata. La cartoleria per le carte della... I giovani. I giovani lavorati in economia che prima facevano carriera in banca perdono il lavoro. E tutto questo perché voi vi ostinate a usare la carta. E noi annuivamo dicendo no, è proprio così, lei ha ragione su tutto. E poi pausa, pausa di 15 secondi e poi ci dice... Voi quando eravate più piccoli avrete palpato qualche ragazzina. E noi un po' perplessi. Scusi? No, dico, vi sarà capitato ogni tanto di... No, ma lei intende forse quando eravamo piccoli, eravamo una fidanzatina. Se capitava, allora ecco, magari con la propria fidanzata. E lui dice, io qualche ragazzina quando ero giovane l'ho palpata. E noi, ah, vedi, questo è interessante. Perché Trump adesso è uscito fuori che 30 anni fa in un camerino ha toccato una e mo' 5 milioni di multa. Ma poi perché l'ha denunciato adesso? Noi eravamo rimasti alle carte di credito. Quindi siamo arrivati un po'. E abbiamo detto, no, però adesso viviamo in un'epoca storica in cui, cioè, finalmente si incoraggia. Insomma, le donne si sentono di più nella condizione di poter denunciare la molestia subita. E lui dice, sì, ma che c'entra? Questo perché 30 anni ci ha messo a loro. Io pure le ho detto a mia moglie, ho detto, guarda, prepara le valigie, andiamo in America. Io ti mando in un camerino, appena ti tocca nel culo abbiamo svoltato. Quindi noi ci siamo immaginati questo signore che manda la moglie ottoagenaria nei camerini di Hollywood a farsi molestare questa povera donna per svoltare 5 milioni, che poi è la stessa cifra, cioè, nel senso, è quella là. E poi alla fine fa... E poi posso dire una cosa sulle carte di credito? E dai, di nuovo, ti è tornato. Io non mi fido perché con quelle ti tracciano, con quelle che hanno tutte le tue spese. Io là non ci ho visto più. Cioè, là, mi sono proprio arrabbiato. Ho detto, guardi, fino qua ha detto solo cose giuste. Però su questo, no. Perché forse lei non sa che se usa NordVPN può tranquillamente non essere tracciato e fare le sue operazioni in totale sicurezza. E infatti lui ha detto, e come faccio? E io gli ho detto, guarda, basta e va su nordvpn.com slash tintoria lo trovo anche nel link in descrizione delle nostre puntate trovo un coupon strepitoso e se lo scarica e non viene più tracciato. E lui ha detto, ah, ma è incredibile. E quindi ora siamo fratelli con questo tassista che... Sì, e ci ha detto, forse lo usa anche mia moglie. Sì, è vero. Che è quello che ci dà il poto. Ogni puntata ha una smart a testa. Ogni puntata ha un pezzo. Non sappiamo più che farne. Non sappiamo più. La montiamo piano piano. Ah, ogni puntata ha un pezzo. Sì, sì. La maniglia. Beh, non è certo grazie a tutti questi pezzi di macchine smart che siamo arrivati alla puntata 167 di Tintoria e non è certo grazie a Trinitalia. Sicuramente non è grazie a Trinitalia se siamo arrivati alla puntata numero 167. Il motivo deve essere che abbiamo la fortuna di invitare sempre ospiti strepitosi, quindi senza ulteriori indugi vi andrei a presentare l'ospite di stasera. Signore e signori, per favore, un grande applauso per Marco Cappato. Buonasera. Non lo vedo tanto bene, in effetti. Ti prego, poni fine le sue sofferenze. Sono qua apposta. È un'impervention. L'abbiamo fatto tutto questo solo per questo momento. Prima pensavo fosse perché è la giornata degli omosessuali. Invece adesso capisco che c'è bisogno di... Sei stato evocato. Stefano, intanto grazie mille di essere venuto qua. Grazie a voi. Ci fa molto piacere. Stefano, si era preparato una domanda. Come stai? Sto bene, grazie. Che hai fatto oggi? Oggi ho portato la mia bimba a scuola e poi sono andato al co-working dove ci sono le postazioni dell'associazione Luca Coscione a lavorare, riunioni, eccetera. Poi sono ripassato dalla mia bimba e sono tornato qua. Banale, banale. Perfetto. Giornata lineare. Lavorativa, giustamente. Allora, io e Stefano abbiamo un po' una domanda che tendiamo a fare alle persone che hanno un percorso di vita che ci interessa, che è come hai iniziato. Noi ci siamo andati un po' a studiare la tua vita. Abbiamo visto che tu, se possiamo partire dalle origini, tu hai studiato in un collegio cattolico. Sì. E allora ti vorremmo chiedere... È sempre così. È sempre così, ti dà la reazione. Sì, sì, sì. Esatto, questo ti volevo chiedere. Com'era studiare in un collegio cattolico e com'è che poi invece se ne esce giovani radicali? Ma in realtà lì al collegio il rettore fu cacciato per storie di donne, cioè quindi alla fine non è che proprio... Non erano proprio severissime. No, no, non c'era proprio questa disciplina ferrea. E come ci sei finito? Ai miei tempi, non so se sia ancora così oggi, però per andare a scuola un anno prima, a cinque anni, lo potevi fare solo nelle scuole private. E quindi dalle mie parti c'era quella. E quindi sei finito là. E sono finito là. Ma hai fatto... No, le elementari. Ah, ok, sono elementari. Poi alle medie sono andato alla scuola pubblica di Vedano all'Ambro. Certo. Che saprai sicuramente. Il mio posto del cuore. Certo. Top tre i miei posti preferiti in Lombardia. Beh, ma in effetti chi non è stato... Chi non è stato. Chi non ha lasciato un pezzo di cuore a Vedano all'Ambro. Certo. L'Ambro, ce lo riportiamo tutti. Ma e quindi come è stato poi lo switch dalla... Ma è una cosa un po' di famiglia. I miei genitori erano abbastanza filoradicali. Ricordo che da bambini ci portarono a un comizio di pannella. Cioè noi eravamo con i nonni al bar a mangiare il gelato e loro sentivano il comizio a metà degli anni settanta. Poi pannella si inventò, credo, nell'85, la campagna O lo scegli o lo sciogli, il partito radicale. O facciamo 10.000 iscritti o sciogliamo il partito. E questa cosa funzionò. E mia mamma fu una di quelle che si iscrissero. E quindi cominciarono ad arrivare cose a casa, materiale. Io ero più anarchico, però mi interessava anche. Quindi ero anarchico con sensibilità radicale. E quindi poi ci sei ritrovato... Poi il mio fratello in realtà partecipò direttamente a una campagna referendaria all'inizio degli anni 90. Conobbe pannella, si candidò a Monza. E quindi poi nel 92 anch'io ho iniziato a frequentare. E tant'è che poi a te sei diventato parlamentare la prima volta a 28 anni? Sì. Caspita! Che in Italia non credo sia... C'erano tanti coetane intorno a te? No, ero il più giovane. In realtà è un lavoro che va fatto da giovani perché devi prendere l'aereo avanti e indietro. È un lavoro usurante. È faticoso. Un'altra cosa che ti volevamo chiedere è come era pannella nella vita normale? Lo incontravi, era simpatico? Perché sembrava simpatico. Era strabordante, era simpatico continuamente. Di solito ti prendeva per il culo continuamente. Era proprio una sua modalità. Vedi? Era molto simpatico, sì. Grande giacinto. Giacinto ha detto Marco. E la battaglia quella che all'inizio mi fece partecipare era stata quella antiproibizionista. Cioè vedevo un po' attorno a me, era proprio la cosa che mi colpiva più direttamente. Solo attorno a te, non anche a te. Attorno a me compreso. Il cerchio era quello. Vedere che ragazzini di 15-16 anni si vedevano poi non arrestati però quasi per fumare una canna era proprio una cosa che era evidentemente sbagliata per me. E lui disse anche in un mio primo intervento pubblico, non ebbe un grande successo, su un'assemblea d'istituto, nel quale era sulle droghe, c'era il prete, e io ho presi la parola tra le domande e dissi l'unica soluzione per me è legalizzare le droghe contro la mafia. Però ai tempi non era ancora... Infatti vedi, però ne è valsa la pena perché adesso invece se va in un'assemblea d'istituto quasi tutti dicono l'unica soluzione a legalizzare le droghe contro la mafia, eppure... Il problema è che la legge è rimasta quella. Sì, esatto. È rimasta quella. Eppure non è cambiato nulla. Niente. Grazie di averlo detto comunque prima quando era più impopolare. Ma c'era... Va bene, questa cosa delle canne chiaramente a me interessa molto, è anche un tema ricorrente del podcast. E' una cosa che mi interessa, perché poi io pure... Io ho scritto la mia tesi di triennale sugli effetti della legalizzazione della marijuana in Colorado. Era una cosa in economia politica, quindi... No, ma... Vabbè, una cosa messa in sentito. No, vabbè, hanno fatto la tesi, non sminuirti. Sarà una bella tesi. Era una tesi abbastanza... L'hai copiata? Beh, ovviamente, nel senso... Era più una ricerca, hai capito? Si vai là e dici, oh, guarda qua i prezzi delle case, tutte cose, però... Le ho messe insieme e poi dicevi, la prego, mi mandi via da questa università. Sono stanco. Sono stanco. Ero già, tipo, pelato da quattro anni. Non è il mio posto. Mi mandi via da qui. Pulcino. Mi mandi via da qui. Però è una cosa che mi interessa molto. Però una domanda che faccio sempre e che mi interessa è che uno si avvicina ai temi della legalizzazione, dell'antiproibizionismo, quando da giovane si inizia a fare le canne e dice, vabbè, ma perché ci stanno arrestando? Comunque perché ci stanno portando in questura? Perché non si tolgono i soldi alle mafie? Però poi tantissime persone, amici miei, io compreso, crescendo, si sono poi allontanati dall'utilizzo della marijuana perché mal si sposava con la vita d'adulti. Quindi la domanda che faccio a tutti gli ospiti è che rapporto hai adesso con la marijuana? Ho un buon rapporto, nel senso che, no, io conosco tante persone adulte che in modo molto più tranquillo, una cannetta dopo cena, anche io, diciamo, non sempre, non tutti i giorni, però ho un ottimo rapporto. Mi rilassa, credo che non, credo che proprio non ci sia proprio un motivo per, non solo per proibirlo, ma, diciamo, legalizzarlo per me è un po' come, cioè può esistere una cultura, esiste una cultura del vino. Noi non trattiamo allo stesso modo la persona che si straubriaca di vinaccio schifoso e chi invece è un esperto, viene riconosciuto anche come uno che sa del buon vino. Ecco, secondo me il problema della proibizione, oltre al problema della mafia, di tutto quello che sappiamo, è anche impedire che ci sia una cultura del consumo consapevole e di qualità. Sì, sono estremamente d'accordo che, secondo me, legalizzare ti permette anche poi di parlare di come non farne uso, perché poi invece nel proibizionismo tu che ne fai uso, soprattutto quando sei giovane, dici no, io sono contro quelli che dicono che fa male e che è il male e quindi fa bene, cioè nel senso che ci si frappone un po' tipo voi di qua, noi di là, però anche di qua poi si commettono molti errori nell'uso. Hai capito? Sì. Grazie Stefano, che appunto sono su un abuso di farmaci in questo momento, quindi adesso ho preso per riuscire a stare qua. No, per esempio le sigarette tu puoi scrivere sul pacchetto i danni, puoi fare prevenzione, invece la droga della criminalità fa il contrario, ti spinge all'abuso, per cui va davanti alle scuole, lo spacciatore cerca di spostarti sul consumo della droga un po' più pericolosa, che crea più dipendenza e quindi non solo non c'è prevenzione, ma c'è una sorta di istigazione di fatto al consumo più pericoloso e irresponsabile, all'abuso. Ma sulla legalizzazione tu come, secondo te, come andrebbe strutturata? Cioè come la vedi una legalizzazione possibile in Italia? Perché io prima seguivo anche molto di più, mi ricordo quando si formò un intergruppo parlamentare, era andato un paio di cose di della vedua che ne parlava, perché era venuta alla mia università. Come la vedi strutturata? Diciamo che l'antiproibizionismo, al contrario del proibizionismo, non deve essere un'ideologia, non c'è una formula magica. Per esempio, secondo me, gli americani che hanno guidato la guerra proibizionista per 50 anni, adesso alcuni stati hanno legalizzato quel referendum, stanno facendo l'errore di una legalizzazione ipercommerciale. Tu trovi la pubblicità dappertutto, non farei questo, farei una legalizzazione più tranquilla, dove non ci può essere l'istigazione al consumo, la pubblicità del consumo. Dopodiché ogni droga va con la sua pericolosità, per cui sulla cannabis, oltre a legalizzare l'autocoltivazione, per i maggiorenni comunque legalizzerei la possibilità, come sul tabacco, di poterla comprare e consumare. Per l'eroina, per esempio nel cantone di Zurigo, in Svizzera, non perché io sia fissato con la Svizzera, però sono ormai 25 anni che loro all'inizio avevano fatto un parco libero per chi si drogava. La polizia non andava e sono arrivati eroinomani da tutta Europa e è successo un macello. Da lì hanno deciso di cambiare modello e di somministrare eroina sotto controllo del medico soltanto ai residenti e a residenti che fossero già consumatori di eroina, con il risultato di fare crollare il tasso di criminalità e di overdosi, perché a quel punto, essendo eroina somministrata in un contesto medico, non c'era più il rischio di morire di overdose e questo esperimento ha resistito al referendum che volevano abrogare, l'hanno votato da sinistra e da destra, quindi anche l'eroina può essere legalizzata, ovviamente non sul bancone del supermercato. Ma questa eroina legalizzata è legalizzata per chi già ha dei problemi, non per chi dice che la voglia provare. No, appunto, non è disponibile nei negozi, però già questo, essendo eroina prodotta dallo Stato, elimina la filiera del crimine e rende marginale l'interesse per la criminalità di portare nuove persone al consumo, perché poi quelle persone, se ci rimangono sotto, hanno diritto a riceverla con la somministrazione medica. Quindi sono dei tentativi, può funzionare una cosa, può funzionare l'altra, per esempio magari l'alcol, ma l'alcol forse andrebbe un po' meno pubblicizzato, spinto, tu hai i politici, gli stessi politici che vogliono mettere in carcere i consumatori di cannabis, poi vanno al Vinitaly a inneggiare e sono 30.000 morti all'anno più o meno. Quindi non è che dico che bisogna proibire l'alcol, ovviamente, ma bisognerebbe avere una proporzione tra la pericolosità della sostanza e il livello di prevenzione e di controllo che si fa. Io a differenza vostra non mi drogo, quindi ho questa domanda. Chi viene qua in generale, la domanda che fa lui sulla marijuana, dice io ho smesso di farmi le canne perché mi vengono le paranoie, tu invece come hai fatto a superare questo? Dopo i 30 anni mi vengono le paranoie, invece tu come fai? Siccome la conosci, dici, so come trattarla oppure... Non so, non sono mai stato molto un tipo da paranoie, forse è quello. Non mi sembra di dare una risposta scientifica. Sicuramente un consumo molto, molto sostenuto alla lunga probabilmente può generare qualche problema. negli adolescenti può essere anche molto pericoloso, un consumo molto, molto sostenuto di cannabis, un consumo occasionale come il mio non mi ha mai creato problemi. Oppure conosci dove comprarla buona? Potrebbe essere anche... Dopo, dopo... Dopo, io non lo fai. No, lo so che non fai un papà per i tuoi amici, ti dico... Certo, certo, poi la rivendo. Poi lui mi butta sempre sotto a un treno, però io non mi faccio più le canne da 5 anni, quindi lui è continuato a darmi. Ah vabbè, sì, sì. Quindi qui l'unico drogato sono io, va bene. Sei tu, alla fine sei tu. Vabbè, chiedo quest'altro... Vuoi continuare sulla droga oppure... No, 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 vai. No, io ho visto anche un'altra cosa, ho letto, cioè anche subito via c'è proprio uno specchietto con tutte le volte in cui sei stato arrestato e sempre per tematiche relative, però, cioè, com'è essere arrestati? Cioè che... In vari paesi del mondo. In vari paesi del mondo. E dipende, è come la droga, dipende dal livello di esperienza. Diciamo che... Gli inglesi sono stati molto corretti. Ecco, ma... Lì ho fatto l'unica prigione seria, seria si fa per dire, tre giorni, l'ho fatta lì per una disobbedienza civile sulla cannabis. Lì c'era un gruppo di malati che coltivava per autoconsumo, perché la cannabis può funzionare su alcune patologie, e la polizia li ha arrestati tutti. Allora siamo andati, ai tempi ero parlamentare europeo, siamo andati a fare una manifestazione mostrando dei pezzi di hashish alla polizia. quindi io sono andato a un poliziotto e gli ho detto ho dell'hashish, in inglese, glielo ho detto. E lui mi ha detto dove? E io gli ho andato così e mi ha preso e mi han portato dentro. Molto tranquilli. Invece la Russia, Mosca, è stato un po' più... Spigoloso. Un po' più spigoloso, sì, perché c'era un gay pride, un pride, ma allora si chiamava ancora gay pride, nel 2007, che non era stato autorizzato dal sindaco. E quindi gli attivisti locali hanno detto vabbè, invitiamo i parlamentari europei, così non ci menano, no? Sì, invece. Ovviamente. Il risultato qual è stato? Che la polizia, invece di menarci direttamente, c'era la contromanifestazione, sicuramente spontanea, c'erano skinhead, c'era anche una signorina, una vecchietta, un fazzoletto, che ci lanciava l'acqua, credo nell'idea dell'acqua benedetta, dell'acqua santa, non so che, e poi hanno cominciato a passare alle mani, no? Allora io lì, c'è anche un video su internet, di questa mia tragica commedia, ho cominciato a gridare, I'm a member of the European Parliament, why you don't protect us? Rivolto alla polizia. E ho fatto breccia, tanto è che mi hanno preso, e mi hanno sbattuto sul cellulare della polizia, e in quella camionetta c'eravamo tutti, cioè c'erano i manifestanti contro, e i manifestanti a favore, belli chiusi insieme, quindi una sensazione di sicurezza profonda, e ci hanno portato al commissariato, ci hanno lasciato lì qualche ora, e poi dopo purtroppo quello che è successo è che a noi forestieri ci hanno lasciato andare via, ma quelli moscoviti si sono fatti qualche mese lì dentro. Era il 2007, erano un po' gli inizi Putin, eccetera, e ci dicevano, no vabbè, ma dovete dargli tempo a Putin, no? Non potete andare lì a provocarlo, vedrete che col tempo... Lasciatelo lavorare, certo, certo. e infatti... Infatti, l'avete lasciato lavorare, perché... Questo... No, e quindi, il carcere solamente l'hai fatto solo in Inghilterra, allora, non... C'è lì è solo... Diciamo, da dormire, sì, poi sono stato arrestato in Belgio, in Italia, per manifestazioni non autorizzate, quindi, tecnicamente si chiama un fermo, più che un arresto. Cioè, poi in caserma, stai lì, e si spaventano, ti spaventano un po', interrogatori, un po' buio, freddo, queste cose qua. Infatti, ho una domanda, c'è una rubrica ricorrente in questo podcast che si chiama Cacare in discoteca. Discoteca, inteso com'è, luogo peggiore possibile, no? Che bella. Luogo in cui dici, no, ti prego, non qui, non adesso, non ora. Allora... E questa, ve la chiede lo sponsor o è un dia vostro? No, questa viene dal cuore, questa... Ah, ok, questa viene dal cuore. E quindi, adesso, in questa circostanza, vorrei aprire la sottorubrica Cacare in detenzione. Come... cioè, sei... sei dei giorni in un inferno oppure in una questura di Manchester e devi andare... Com'è la situazione toalette? Allora, a Manchester, Strangeways Prison, una bellissima prigione ottocentesca, il mio compagno di cella era un pugile ed era lì per rapina a mano armata. Era veramente... Quindi io non sono entrato proprio contento, nel senso tranquillo, non ero molto tranquillo. Anche perché, diciamo, io contavo anche sul fatto che magari ti arrestano, sei parlamentare europeo, si viene a sapere, no? E quel giorno è scoppiata la guerra in Iraq. Quindi, non sono stato proprio la notizia numero uno dei tre giornali. E quindi, mi sono sentito a un certo punto che forse nessuno aveva né la minima idea, né ne fregasse nulla. che... E quindi... E questo pugile... Leggevo un libro che si chiamava The Perfect Murder. Ve lo giuro. Sembra una cazzata, però è così. E... E... E lo vedevo preoccupato e mi guardava male. E poi, a un certo punto, è riuscito a liberarsi e mi ha detto Are you gay? Cioè, era molto preoccupato che io fossi gay. E io ovviamente no, assolutamente. L'ho tranquillizzato, però ecco, fino a quel momento l'idea di andare in bagno mi ha... più per la doccia che per l'altra cosa che dici tu mi inquietava un po'. Però poi è andato tutto bene. Ma c'era un bagno o il bagno era una tazza nella cella? C'era una tazza nella cella. Sì, quello era. Senza seppare. Era proprio squallido così. Però poi c'era anche diciamo che la chiusura della cella è più o meno dalle 5-6 del pomeriggio fino al mattino successivo. Quindi se ti scappa in quelle 12-13 ore quello era il cesso. Altrimenti ci sono dei bagni comuni nella... Ah, ok. Però il modo migliore secondo me è per rompere il ghiaccio questo qua. Are you gay? In generale. Sì, sì, sì. La prossima cena di lavoro la prossima riunione che non sai come madonna questo è il capo di NordVPN. Lei nella cella a fianco c'era un cinese che aveva decapitato uno. Ah, quindi era... Con la mano perché loro sono espertissimi. Ma quindi secondo me perché ti ha fatto quella domanda? Perché era era... No, lui era preoccupato me l'ha spiegato dopo era preoccupato che io che tu potessi fare cose a un... Pugile quindi comunque vabbè però non si sa mai ti avrà visto si è misurato ha detto perché magari non si sa mai questo è un pugile omosessuale molto più forte di me perché chiaramente un pugile insicuro alla fine e quindi hai usato quel bagno lì insieme a lui e si dice may I vai vai straight man do do your thing e scusami se torno su questa cosa ma in quei momenti con un pugile eterosessuale abbiamo che legge anche omofobo non dobbiamo avere paura di dire che legge come uccidere delle persone come fa cioè come cioè non c'è contatto capitava che guardassi no non mi guardava cioè no no poi dopo siamo beh c'è voluto un po' per rompere il ghiaccio appunto però siamo diventati abbastanza amici lui era c'erano queste immagini della guerra lui era molto anti americano io no però lo seguivo cioè lui diceva fucking american bastard e io è certo yes ecco non mi sono messo a fare politica sull'occidente democratico e le cose che ci hanno liberato dal nazismo tutta sta roba non era il movimento l'ho messa da parte sì ero con lui Stefano no c'è paura di fare delle domande fare la gaffe vabbè io già ho detto la droga la detenzione ma quel libro che stava agendo lui ti ha influenzato in qualche modo scusa ma sai che non ci avevo mai pensato non ci avevo mai pensato ti ringrazio gli ultimi che mi hanno dato dell'assassino erano quelli di milizia cristi sì e li ho denunciati no no scherzo ma io supporto li hanno perso la causa diffamazione però non sono mai riuscito a recuperare un euro perché i responsabili ufficiali sono nulla tenenti come nelle associazioni maravidose come nel Vangelo comunque comunque cioè quindi milizia cristi poi sono un gruppo comunque cioè mezzo si può no non lo dico se no me lo denunciano cioè che gruppo sono dillo tu cioè come si possono definire diciamo che il nome dice molto esatto milizia con la T-I ovviamente deve essere alla Latina il nome dice molto forse tutto no e quando noi aiutammo nel 2006 Pier Giorgio Welby che era malato di distrofia attaccato al respiratore a ottenere il distacco del respiratore sotto anestesia senza soffrire e loro se ne uscirono sobriamente del dire siete degli assassini quando poi i tribunali scagionarono il medico Mario Riccio e di conseguenza anche io che avevo organizzato la cosa allora abbiamo fatto causa per diffamazione e abbiamo vinto ma infatti ti dicevo prima io per prima di fare questa puntata mi sono fatto spiegare dalla mia ragazza avvocata un po' di cose per non venire totalmente impreparato l'interruzione delle cure in Italia prima era completamente illegale e adesso non è più completamente illegale allora no in realtà la costituzione italiana dice quindi dal 1948 nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario contro la sua volontà quindi dal 1948 che se una persona dice io voglio interrompere una cura avrebbe diritto di farlo il problema è che in Italia tu puoi avere un diritto sulla carta ma se non c'è nessuno che ha l'obbligo di aiutarti di farlo rispettare rimane sulla carta quindi la risposta è che la interruzione delle terapie sarebbe stata legale dal 1948 ma che c'è voluto il caso Welby per vincere un precedente giudiziario e poi con la mia disobbedienza civile con l'autodenuncia per aver poi c'è stata la legge nel 2017 che ha chiarito che è un dovere del medico rispettare la volontà del paziente della persona che vuole interrompere le cure anche quando questo porta al decesso del paziente stesso quindi questo oggi è pienamente legale si può fare anche attraverso un testamento biologico per quando un domani non si fosse più in grado di intendere di volere quindi gratuitamente io posso scrivere su un pezzettino di carta chi è il mio fiduciario e domani potete andare in comune a depositarlo gratis la legge prevedeva anche una campagna di informazione responsabilità del governo questa campagna di informazione non è stata mai fatta quindi il testamento biologico è stato depositato dal 0,4% dei cittadini italiani ma tra l'altro la cosa dell'interruzione delle cure è una cosa che un po' cioè succedeva prima nel senso a un sacco di persone è capitata l'esperienza di un nonno una nonna molto in ospedale e a un certo punto il medico ti dice però te lo dice non perché Mario Riccio il medico del caso Welby è stato incriminato perché la costituzione dice che hai diritto a interrompere le cure ma una legge del 1930 dice che ti becchi da 5 minimo a 12 anni di carcere se aiuti qualcuno a morire quindi la contraddizione è tra la legge del 1930 e la costituzione del 1948 per cui i medici fanno un po' fatica a agire in modo aperto e chiaro perché temono di essere poi incriminati per quell'articolo del 1930 almeno prima della legge adesso è un po' diverso adesso è diverso ma e allora ti faccio una domanda simile a quella che ti ho fatto prima per l'erba tu adesso accompagni o comunque l'associazione adesso accompagna le persone in Svizzera dove invece c'è il suicidio assistito che è diverso perché è il paziente stesso che prende la non so come si chiama il farmaco secondo te secondo te quello è il modo giusto ideale di approcciare il fine vita oppure quale sarebbe idealmente il modo giusto per uno stato di legiferare secondo me il problema non è tanto il modo in cui lo si fa in Olanda in Spagna in Belgio in Lussemburgo può anche essere il medico che pratica che somministra la sostanza letale non è necessariamente il paziente che se l'auto somministra ma questo secondo me è abbastanza indifferente il problema è quella persona ha diritto o non ha diritto a essere aiutata a morire io penso che se una persona è lucida e consapevole la patologia è irreversibile la sofferenza è insopportabile allora ha diritto la Corte Costituzionale nel mandarmi assolto nei due processi a mio carico che ci sono stati per la disobbedienza civile ha detto che ci vuole anche un altro requisito la persona deve essere tenuta in vita da un trattamento sanitario quindi se tu già sei tenuto in vita da un trattamento sanitario puoi essere aiutato a morire con l'autosomministrazione del farmaco altrimenti no ed è la ragione per la quale stiamo continuando con le disobbedienze civili non più io da solo abbiamo 27 persone diciamo associate a delinquere che fanno questo io non sto più andando in Svizzera a fare questo e sono persone che non sono tenute in vita da trattamenti sanitari quindi sono lucide e consapevoli affette da patologie irreversibili con sofferenze insopportabili ma per esempio un malato terminale di cancro non è attaccato a una macchina e quindi non si capisce perché debba essere discriminato nella possibilità di accedere all'aiuto alla morte volontaria e quindi ci sono adesso altre quattro persone che abbiamo aiutato con quattro indagini a Milano a Firenze a Bologna a nostro carico e potenzialmente quattro nuovi processi c'è una domanda che forse è sciocca però mi chiedevo poi l'atto di andare dall'Italia alla Svizzera il viaggio durante il viaggio è capitato di accompagnare appunto delle persone immagino non da sole anche con altre persone che l'accompagnano cioè durante il viaggio di che si parla cioè comunque stendo a fare una cosa però magari che ne so dici cioè stemperi attenzione oppure come funziona allora Fabo era in una condizione di sofferenza estrema cioè dei continui scarichi di dolore decine e decine al giorno e non poteva parlare se non aspirato dalla saliva e un viaggio di quattro ore è durato sette otto ore ed era ampiamente sedato quindi non c'è stata nessun tipo di interlocuzione e c'era la sua mamma di fianco a me quindi è stata più ho parlato con la mamma non con lui poi quando siamo arrivati lì all'inizio c'è stata questa cosa terribile poi non so ditemi voi perché so che questo è anche un mappabuttia format per fare ridere non vorrei distruggere tutta la però la cosa più penosa e straziante di tutte è che siccome in Svizzera devi autosomministrare il farmaco lui era completamente paralizzato quindi non poteva prendere il bicchiere e bere come si fa solitamente e quindi gli è stato costruito un marchingenio per cui c'era come un bottone su un mouse che lui doveva premere mordendolo con la bocca però non aveva abbastanza forza per non riusciva a premere questo bottone nelle prove che sono state fatte il giorno prima e quello è stato l'unico momento nel quale l'ho visto proprio disperato che piangeva dalla disperazione dall'idea di non riuscire e di dover essere riportato a casa quando poi cambiando un po' l'inclinazione della sedia quindi sfruttando il peso della sua testa è riuscito a quel punto ha cominciato a scherzare a cazzeggiare Fabio era un ragazzaccio faceva il DJ a Goa c'erano i suoi amici molto simpatici è diventata una una serata tra amici molto divertente faceva faceva battute diceva buono sto yogurt se non riesco a morire ce lo riportiamo ce lo riportiamo a Milano è troppo buono e poi pochi minuti prima di andarsene ha detto ai suoi amici venite qui che vi devo dire una cosa molto importante lui era stato era così perché era aveva fatto un incidente da auto dopo una serata che aveva suonato in discoteca qua a Milano e ha detto vi prego mettetevi la cintura non potete farmi un favore più grande e questo ma personalmente mi ha confortato perché se tu in una situazione come questa invece di essere semplicemente angosciato del film della tua vita che sta finendo hai l'energia per pensare all'energia mentale alla salute dei tuoi amici e a chiedergli di mettere la cintura vuol dire secondo me voleva dire che non se ne andava per disperazione se ne andava con la serenità di una persona che aveva compiuto la sua vita che non aveva più niente altro e nessun altro motivo per continuare grazie 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 Stefano se vuoi continuare perché se no io avrei no c'è una partura ma questa cosa del buon umore me la sono portata dietro perché in effetti anche io avrei pensato pensavo che in quei momenti è un po' come un funerale anticipato invece per persone che vivono come una tortura magari da mesi o addirittura da anni la propria esistenza quello è un momento di grande serenità quando andammo a casa di Pier Giorgio Welby con Marco Pannella e con altri con Mario Riccio il medico e Welby ci disse sono un po' sono un po' nervoso certo Pier Giorgio eh no è la prima volta che muoio e lui dici caspita no se sei disperato non ti metti non lo so credo poi voi sapete voi che mi fa battute però Stefano no dicevo se vuoi continuare un altro vuoi cambiare discorso sì perché sei autorizzato no no perché magari puoi stare a fare invece no no vai vai prego poi siete al torno su questi argomenti ah ma se vuoi vai no 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 prego noi abbiamo un potente team che ci fa ricerche sugli ospiti e ci abbiamo delle curiosità che ti volevo chiedere cioè tu sei ci hanno detto che fai la raccolta differenziata in modo non voglio dire in modo preciso che cosa vuol dire essere persone estremiste nella raccolta differenziata è stato usato il termine estremista dal nostro team di ricercatori ah quindi siete entrati in contatto molto diretto con persone che hanno convissuto con me noi non abbiamo fatto niente noi non sappiamo noi ci sono arrivate dei whatsapp per dire a livello alto ho capito ho capito sì no devo ammettere che poi ognuno deve cercare le proprie piccole ossessioni secondo me la persona che vi ha detto questo deve avermi visto prendere una busta e separare la finestrella plasticata prima di buttarla nella carta può essere successo questo aspetta qual è la finestrella plasticata ci sono le busse dove c'è la finestrella dove vedi l'indirizzo la presente te l'ho mai scritto la bussa la bussa la bussa le lettere sì sì ok quindi tu togli sì però è giusto io pure lo faccio però aspetta ma tu ci lasci anche la carta cioè c'è un po' di carta che rimane intorno quella che fai me la mangio è che ne so me la me la mangio sei estremista si ma non sono così estremista tipo non so il latte c'è il cartoncino il latte c'è poi il il beccuccio di plastica magari lo stacco ma io lo faccio perché tu non lo faccio ma vedi è normale ma pure Stefano ma certo tu non lo fai sì certo certo lo faccio guarda sulla finestrella della bussa c'ho scritto un monologo però davvero sì 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 sono contento che te lo ricordi se domani vieni al teatro e chi non se lo ricorda ma io c'ho il problema tipo questa cosa qui che ne so che questo qua la nostra candidatura ha il pod votatelo c'è in QR code che vedete tipo questo qui se non l'avete visto bene è questo cioè questa è carta sei un fenomeno stai non è cioè non te la si fatte perché a volte c'è quella che è plastificata no era proprio quello di cui parlavo cioè se è carta plastificata che è carta o plastica e là pure c'è la formula se si strappa è carta se no è plastica questo è tutto un monologo poi secondo me dipende anche in che comune uno abita perché pare che ci siano alcuni comuni dove la gente fa la differenziata poi arrivano e mettono tutto insieme e va in discarica no per cui a quel punto forse è meglio non farsi troppi problemi a quel punto è meglio non io mi ricordo che una volta a Termini lo facevano alla stazione di Roma adesso non lo fanno più però ci sono i secchi separati giallo, verde, blu la carta e un tempo c'era anche la scritta che si leggeva adesso invece paper waste e poi se tu stavi a Termini aspettando il treno vedevi proprio quelle della nettezza urbana che prendevano e svuotavano tutti nello stesso sacco però questo anni orsono adesso non l'ho mai per cui tutti buttano tutto giallo secondo me è carta e vai devi andare tipo una carta dei volantini i volantini cioè quella è questa ce l'hai proprio qua quella è carta però ci sono volantini e volantini dipende quanto hanno investito è plastificato perché comunque anche il termine plastificato che vuol dire che lo rendi plastica no? lo so qui siamo alla chimica alla fisica e qua pensavo se c'è un tutorial qualcosa io non lo so non lo sai ma invece Ibiza se ti dico abbiamo parlato siete andati proprio sì che esce che ti ricorda Ibiza mi sono divertito è una bella una volta è una bella netta non lo so più di una volta sono andato più di una volta sì che volete sapere? a fare clubbing sì manca un po' di clubbing anche un po' di clubbing ma anche un po' di beh poi ogni tanto uno al mare ci deve andare comunque sì certo perché per fare la foto al mare Ibiza è dire mare strepitoso no anche per riprendere il pomeriggio mare incredibile appena arrivati quindi Ibiza bella divertente sì io mi sono divertito poi ma con Pannella no no Pannella non era un clubber forse no con Labonino no Emma non è una clubber Emma va ai rave perché certo certo sì quelli un po' più rustici certo la Tecno con la K piace a Emma se no sai devi dare solo a dirle a SIA e queste cose sì lei proprio non ci sa non capisce più niente ma come la SIA giustamente lei stalla per la festa vuole vedere le casse montate i cani impauriti infatti è il suo è il suo ambiente questo era quando eri europarlamentare cioè tu di giorno all'inverno all'europarlamento e poi l'estate no ma adesso adesso non vorrei creare una mitologia eccessiva no no ci sono andato qualche volta tempo fa l'ultima volta a Pasqua ah recente recente ok ok e che hai fatto ma adesso probabilmente poi ma Pasqua è prima dell'apertura delle discoteche sì però ci sono comunque lui conosce nelle feste ho capito lui c'ha questa cosa che nelle feste un po' rustiche ok ok no poi tanto mare ovviamente tantissimo mare musei famosi musei di Ibiza sono è chiaro il museo del club immagino non ci sono mai andato però quindi Pasqua se conosci Pasqua e Ibiza sì 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 perché io ero andato le prime volte con una mia amica che non è più tornata è rimasta lì ma perché Ibiza poi c'ha anche tutta questa attrattiva cioè è un composto di fricchettoni poi adesso è diventato era nata ai tempi della dittatura di Franco andavano gli oppositori dissidenti eccetera e quindi è un po' cresciuta con questo spirito un po' ribelle poi dopo ovviamente tutto si è commercializzato tutto è diventato business si ha e per l'appunto si ha le famose cose buone che fece anche anche Franco Ibiza che è diventata un po' un'isola dove si sperimentavano le cose e proprio su questo argomento cioè un altro un altro input che abbiamo ricevuto è sul sul microdosing sì avrei delle domande sul microdosing dell'LSD ora la mia esperienza la mia unica esperienza con l'LSD fu una volta che mi presi un acido in campagna come è andata? è andata molto bene da solo cioè c'erano tanti amici che però stavano facendo altre cose io mi sono messo su un'amaca tra due ulivi e sono rimasto là a guardare il tramonto in Toscana tutti chiami fuori anche su questo io Stefano guardavo contrario nuovo senza difetti molto bello il contatto con la natura poi a un certo punto è arrivato un ape come si chiamano quelli gli ammazza mulio vabbè cioè tu credevi fosse cosa? una vespa gigante che mi ha apparsa proprio davanti agli occhi e io l'ho quindi ho anche avuto paura molto bello proprio bellissimo ho scappato però è stata un'esperienza molto contenuta una volta ci stai facendo venire voglia a tutti esatto io ho questo dono che tutte le volte parlo delle droghe e le persone se ne allontano e lo considero comunque sia un dono importante però una sola esperienza e non mi sento di poter parlare con condizioni di causa della cosa invece il microdosing che cos'è come funziona e perché si fa? allora diciamo che dopo 50 anni circa di proibizionismo assoluto su queste sostanze cosiddette psichedeliche LSD MDMA psilocibina funghetti ayahuasca MDMA eccetera e è ripresa la ricerca scientifica adesso non voglio dire in modo poco corretto perché appunto ci sono scienziati che ci lavorano sono stati pubblicati articoli e studi scientifici importanti e gli psichedelici sono utilizzati a livello sperimentale su diverse malattie da una parte i malati terminali dall'altra le sindrome post-traumatiche e pare che la Food and Drug Administration l'agenzia americana dei farmaci sia in procinto di autorizzare l'MDMA che poi è la molecola che sta alla base dell'ecstasy con un certo tipo di uso terapeutico poi ovviamente non vuol dire che fa bene vuol dire cioè come la cannabis terapeutica dipende come la usi per chi la usi quindi non dico ah sì che bello fa bene però sono sostanze che dopo 50 anni di gelo assoluto adesso sono un po' state riscoperte dalla ricerca scientifica e ovviamente le esperienze anedotiche cioè quello che ciascuno può aver provato non sono significative sul piano scientifico io personalmente ho provato e ne ho avuto una buona una sensazione buona positiva che cos'è il micro dosing è delle micro quantità quindi al contrario della dell'esperienza che hai fatto tu che è una quantità importante che ti ha dato allucinazioni e che per magari 6-7-8 ore ti avrebbe impedito di fare qualsiasi altra cosa il micro dosing è una quantità infinitesimale rispetto a quella che tu hai fatto potrebbe essere un ventesimo un trentesimo e che una persona può prendere un giorno sì e due no circa di solito si fa così è assolutamente compatibile con la vita normale e che diciamo diminuisce il livello di si dice la mente ruminante cioè invece di stare stai meno a pensare oddio cosa farò tra due ore cosa ho fatto sei più nel presente un po' come la meditazione silenzia la presa del diminuisce inibisce la presa della mente controllante e quindi ti distende di più alla sensazione del momento presente questo è un po' quello che anch'io ho avuto esperienza di fare e che viene riportato dagli studi scientifici e per quanto tempo cioè un giorno sì e due no puoi fare un mese due mesi ah quindi un periodo su strumenti quotidianamente un giorno sì e due no e che com'è cioè che fai ma niente fai la vita normale vai a lavorare fai le cose che devi fare però ti migliora in qualche modo la percezione sì allora a livello di quanto ti rendi conto che ti faccia effetto è qualcosa di simile a bere un caffè poi ci sono persone che con un caffè diventano nevrasteniche però diciamo in media un caffè senti un po' l'effetto che ti fa stare un po' sveglio in questo caso senti un po' l'effetto di una sorta di serenità senza che però questo minimamente ti alteri la capacità di fare delle cose quando io l'ho fatto per due tre mesi ho fatto la mia vita assolutamente normale accompagnavo la bambina a scuola andavo a lavorare facevo e poi finiti i due tre mesi però non ti manca quella sensazione? no adesso non voglio sembrare la pubblicità allora non fate niente fino a quando non sarà scientificamente validato eccetera eccetera quello che però la ricerca ci dice che al contrario della della cocaina dell'eroina dell'alcol che sono droghe che creano dipendenza e assuefazione al tempo stesso e quindi devi prendere da un certo punto di vista sempre di più e comunque se smetti di prenderle ti crea un problema queste sono sostanze che non hanno questo tipo di di controindicazione poi certo se uno la dipendenza psicologica ci può essere da tutto ovviamente però non è qualcosa che crei diciamo il cosiddetto down o la crisi di astinenza come invece anche sostanze come l'alcol o il tabacco e invece ti è mai capitato di prendere dell'LSD o comunque che andasse male perché cioè che andasse male di avere un cosiddetto bad trip perché le persone che conosco che l'hanno avuto dicono che sul momento è molto 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 brutto però poi quando torni indietro comunque in qualche modo ne valsa la pena solo che qua di nuovo stiamo parlando di esperienze personali quindi volevo sapere se a te allora qualcosa di simile sull'ayahuasca che è questa vabbè se non so a spiegare nel dettaglio invece nella cosa che dici tu mi è capitato non su di me ma sulla persona con la quale ero che era una ragazza francese alla quale io iniziai a spiegare la storia perché eravamo un po' in campagna isolati e quindi mi era venuta l'idea di spiegarle come era andata questa storia del mostro di Firenze ok e quindi ero infervorato altro personaggio che non ti ha ispirato comunque diciamo no ero infervorato nei dettagli di questa cosa eccetera e quando poi ho finito questa spiegazione l'ho guardata ho capito che avevo sbagliato avevi sbagliato storia ho visto il terrore e niente lì è vero e ho visto cos'è un band trip indotto dalla storia del mostro di Firenze esatto peggiore dei band trip possibili c'è che da fuori c'è che vedi una persona che sta disperata però di solito di fatti si dice queste cose l'importante è non andare in discoteca in mezzo a mille persone eccetera ma stare con persone che ti vogliono bene immagino questa francese in mezzo alla campagna comincia a urlare se nel mondo ci fosse un band sarebbe bello vabbè pensa che storia ha adesso da raccontare mi trovavo da solo in campagna con Marco Cappato che a un certo punto guardandomi negli occhi mi ha iniziato a parlare del mostro di Firenze con dettagli mai riusciti scusa chiedo scusa tu ricordati sempre di questi di Milizia Cristi quindi stai prudente con le allusioni però diciamo che Stefano comunque è un membro di Milizia Cristi però occasionale cioè la tessera ce l'ha però non è che ci va proprio ai libri fa quelli su Zoom fa quelli su Zoom comunque oh pure oggi Gesù e stacca il video esatto solo audio Gesù Gesù ma c'è c'è una droga che non consigli cioè che dice questa proprio evitala adesso voi mi state facendo fare una veramente una pessima figura no per cui no ah cioè in ognuna no attenzione sentimi Lalo proprio io non è che sconsiglio allora poi gli hai dato se voi andate su YouTube e cercate Carl Hart è un professore americano uno scienziato anche rinomato e lui consuma eroina no? esatto e consuma modiche quantità saltuariamente di eroina e spiega non io lui come il problema anche per l'eroina è nell'abuso e ovviamente il margine di abuso nell'eroina è molto più pericoloso basta pochissimo per trovarsi in una situazione dalla quale non si è più in grado non si sa più uscire quindi questo non vuol dire l'eroina va bene fatevi di eroina eccetera significa semplicemente che ogni sostanza ha la sua pericolosità appunto i dati delle morti di alcol e di tabacco e proprio per questo affidarle alla criminalità aumenta esponenzialmente la pericolosità per cui anche fare discorsi allarmistici non è utile perché poi non aiuta le persone a scegliere qual è la propria soglia che è molto personale c'è anche una componente genetica in questo ci sono persone che sono più geneticamente predisposte all'addiction a entrare dentro la sostanza e altre che lo sono meno vai stai sei scatenato questo lo chiedo per Milano e invece la cocaina la cocaina devo dire che delle cose che ho provato io è quella che mi è piaciuta di meno perché cioè se il paragone tra psichedelici è un po' quello con la meditazione cioè con lasciare dissolvere l'io o l'ego e sentirsi un po' più parte del mondo un po' più rilassati un po' meno dominanti e angosciati dal futuro e dal passato la cocaina è il contrario è una droga che a me mette angoscia e questa forza questa potenza che ti senti io personalmente la sento come una cosa malata non è una cosa che mi fa stare bene quindi non è una cosa che mi piaccia o che consigli poi ognuno reagisce in modo diverso leggevo da qualche parte che ormai nella cocaina non c'è neanche più cocaina cioè il livello di adulterazione di schifezze che vengono messe dentro chimiche nelle sostanze è un altro risultato del proibizionismo cioè le persone non sanno che cosa prendono non hanno e quindi diventa proprio impossibile avere un controllo sul comportamento e l'effetto della sostanza e quindi secondo te come tutte queste droghe come sarebbe il caso migliore di liberalizzarle cioè avendo come appunto in Svizzera quelle situazioni oppure noi diciamo sempre con l'associazione Luca Coscioni legalizzare non liberalizzare quindi non c'è nessuna sostanza che sia diciamo totalmente liberalizzata anche se volete comprare i prodotti alimentari ci sono delle regole e dei controlli quindi la liberalizzazione è quella della mafia dove non si sa cosa c'è nel prodotto non si sa come la si vende non c'è controllo sanitario non c'è nulla penso che le sostanze che provocano meno rischi di overdose o di asfifazione possano essere vendute in modo più tra virgolette libero come dei prodotti sui quali fare attenzione informazione eccetera le sostanze più pericolose abbiano bisogno di un o di un'assistenza medica insomma di un passaggio in più ok io adesso il ruolo di quello che cambia cambia argomento e va su cose più leggere non so come sono finito ad assumere questo ruolo ma lo prendo volentieri i nostri informatori le nostre informatrici ammazza no si guarda tremendi tremendi ci hanno anche parlato di una tecnica con cui ti lavi i denti che non ho capito vorrei quindi chiederti come ti lavi i denti che è una domanda particolare però non ho paura di farla ok no no tranquilli lo volete sapere non è niente di che allora io sono un po' uno di quelli che legge una cosa su un giornale poi non si ricorda dove l'ha letta ma gli rimane e continua a ripetere ho letto che bisogna quindi io sul lavaggio dei denti due cose uno ho letto che non bisogna lavarli prima di mezz'ora da quando si è finito di mangiare a qualcuno risulta questa cosa? ok quindi vedi quindi voi pensavate di farmi fare anche su questo la figura psicopatico e invece e invece e invece quella congestione ti viene no perché lo sforzo è troppo grave no perché il adesso dico il pH ma magari il pH non c'entra niente dei denti è troppo sensibile e se lo si spazzola subito rischia di danneggiarsi tipo lo smalto adesso non prendete alla lettera questa spiegazione sicuramente non è così come ve l'ho detta però c'è una ragione scientifica per aspettare una mezz'oretta prima di lavarsi i denti l'altra cosa banalissima è la mano sinistra cioè io mi rado anche non sono mancino però mi lavo i denti con la mano sinistra e mi rado con la mano sinistra come vai? grazie volevo proprio questa domanda che mi consente perché in un altro articolo o magari nello stesso pure perché ho letto che la flessibilità mentale viene aiutata dal compiere dei gesti con non la mano diciamo la mano forte ma con l'altra questo aumenta le connessioni cerebrali qui non so qualcuno ha sentita questa? va bene quindi ok l'importante è che qualcuno l'abbia sentita questo sì mi sapevo un po' di cazzata posso dire sì sì vabbè vabbè comunque c'è anche un paio di no in nessuno di questi due casi prendetela come una verità scientifica perché non mi ricordo neanche dove l'ho letta però questa spia che vi dà le informazioni immagino si riferisse sono queste due cose eccolo là allora rispetto alla flessibilità mentale sì poi il resto va a gusti credo chiedigli a cosa ti riferisci chiedigli no lui chiedigli a cosa si riferisce a cosa ti riferisci non so tu a cosa ti riferisci no no io sapevo io sapevo solo dei denti va bene le seghe sì anche con la sinistra le seghe va bene e allora liberalizziamo e allora questo è giusto ma sì se usi la sinistra può essere chiunque eh può essere veramente chiunque tu puoi che sia stiamo volando alto sì sì è molto bello no che altro no interessante questo perché leggi delle cose e poi te le dimentichi vai controllo ma io c'ho invece una volta una signora giapponese mi ha detto che se ti tagli le unghie dopo il tramonto quindi col buio cioè di non farlo perché sennò poi quando muori non vedi i tuoi genitori ma questo non so se è scientifico questa cosa probabilmente sì l'avete sentita questa e allora sì su science c'era proprio un servizio un'altra cosa che mi diceva è che se fischi vengono i serpenti ma questo questo solo in Medio Oriente lo sanno tutti e poi di farsi palpeggiare a Hollywood è quello è quello pure e no c'è un'altra cosa invece che c'era che avevo visto su Wikipedia che a te ti ha beccato la polizia postale perché hai scaricato Blade Runner no mi sono autodenunciato ah si è autodenunciato ah ok pure quasi è un metodo sei tu allora sì sì a disobbedienza civile dove il termine civile sta nel fatto che ti autodenunci perché se no disobbedienza civile non pago le tasse disobbedienza civile parcheggio dove mi pare no? dov'è la differenza tra disobbedienza civile e quella incivile è che almeno magari poi non c'hai ragione non è che uno che fa disobbedienza civile per forza ha ragione però almeno ti assumi la responsabilità di quello che fai allora i tempi prima di Spotify insomma voi non c'eravate ancora non c'eravate sì vabbè comunque sì 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 c'era stato un decreto mi pare scaiola una legge scaiola adesso l'hanno eletto cambia tutto in Italia l'hanno eletto adesso sindaco che con pesanti pene di carcere per chi scarica materiale illegalmente su internet e lì c'è tutto un gruppo di libertari della rete stiamo parlando credo fosse all'inizio degli anni 2000 una cosa del genere che spiegavano come questa legge potesse andare contro a tutto il software libero la controcultura digitale tutte queste cose quindi individuarono il fatto che Blade Runner nella versione credo italiana non mi ricordo che non aveva più i diritti d'autore quindi non c'era un danno pecuniario nei confronti di nessuno nonostante questo sarebbe rientrato nella in quella legge che era stata appena fatta per cui feci una conferenza stampa annunciando alla polizia che avrei scaricato illegalmente del materiale e si presentarono sei poliziotti della polizia postale a assistere a questa cosa dello scaricamento del film Blade Runner il grande crimine internazionale che torno a te tu eri lì che aprivi infatti che programma avevi usato Emule io ovviamente sono un incapace totale quindi c'era una persona che mi diceva premi qua premi qua e io così facevo era un po' un download illegale assistito diciamo così e quindi è amico tu lui è incorrigibile milizia Cristi salutiamo e quindi non accade nulla però cioè arrivavano i poliziotti ma non accade nulla e poi sono arrivato in sé perché non gli pareva vero perché non conosco nessuno in Italia che sia mai stato cioè si diceva oh guarda che poi però chi è che però allora era beh Napster è stato fatto chiudere ai tempi prima di Spotify c'era Napster che era questa piattaforma tipo Spotify ma che non riconosceva il diritto d'autore e quindi a un certo punto era stata chiudere era stata fatta chiudere però poi perché in Italia tutta la parte del download e poi dello streaming illegale noi ce la siamo fatta abbastanza lisci cioè nel senso nessuno dei noi utenti finali ha mai subito conseguenze almeno che io sappia mentre invece già in Germania io so di persone che se scaricavano i film gli arrivavano i multoni negli Stati Uniti un po' il guru di questa cosa che si chiamava Aaron Schwartz che diciamo appositamente condivideva in rete pubblicamente dei testi nelle biblioteche quindi testi anche universitari eccetera fu condannato a una pena di carcere pesantissima e si suicidò quindi questo è stato l'episodio più più duro di tutta questa vicenda che poi si è un po' risolta no perché non è proprio risolta del tutto però la commercializzazione cioè quando le grandi aziende dei contenuti hanno si sono rese conto che si dovevano un po' arrendere al modello della condivisione in rete a quel punto hanno creato le loro piattaforme legali e questo ha un po' risolto diciamo il problema tra l'altro mi sa che ce l'hanno fatta alla grande perché ti permette di pagare ancora di meno gli artisti questo sistema quindi proprio come sempre hanno vinto quelli che dovevano vincere però diciamo gli anni del download e dello streaming furono begli anni di frontiera per noi ragazzi adesso quindi la domanda sorge spontanea adesso invece che ti stai a vedere su internet o in televisione cioè che ti vedi adesso ho traslocato per cui non c'ho neanche Netflix non c'ho niente non vedo niente ultimamente prima allora adesso ci penso un attimo l'ultima cosa Netflix che ho visto pure film pure programmi televisivi che ti guardi sono un po' fuori dal mondo l'ultima serie che forse ho visto Fauda forse l'ultima che ho visto Fauda quella ah vedi ho vista solo io qualcuno una mano alzata però è popolarissima tra i giovani Fauda nessuno per il resto non guardi televisione non guardi i programmi no a Stefano l'hai distrutto no mi spiace scusi tu guardi la televisione io guardo sì cosa ti piace di più mi guardo quelli che cucinano queste no mi guardo quattro ristoranti ogni tanto quello me lo vedo sono quattro ristoranti e fin qui e questo da cui il titolo questa è la cosa e c'è Alessandro Borghese lo conosci sì di nome è il figlio di Barbara Boucher Barbara Boucher sì perché è il figlio e è il figlio e praticamente va da questi ristoranti e quindi questi quattro si sfidano e quindi mangiano tutti tre di loro al ristorante di uno e quindi giudicano i piatti e questa è un po' così ma sulla nove però questa sì allora forse sì una cosa così sì sì sul nove sì oramai siamo tutt'uno mi guardo otto otto nove dopo il sette sono tutti uguali i canali sì sì mi guardo la sette Lilly Gruber ogni tanto salutiamo Lilly Gruber è un'amica del podcast propaganda mi guardo mi guardo vabbè già un po' di roba c'è un po' di carne al foco già qualcosa io ogni tanto l'inizio del telegiornale tipo i titoli questa cosa qua poi è come se l'avessi visto tutto dici no io ancora leggo i giornali quindi stiamo parlando cartaceo ti compri vabbè tu fai la rassegna stampa sì la domenica da 15 anni a questa parte mi alzo alle 5 dunque vado all'edicola li leggo fino alle 7 e mezza e poi vado in diretta su Radio Radicale aspetta dove l'edicola li leggi no l'edicola li compro non li pensavo no 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 velocemente mi fa vedere un attimo no i titoli pure lì no li compro ok li compro e poi me li leggo e poi li vado una cosa breve un'ora e mezza di trasmissione c'è proprio i tempi moderni questi qua però alle 5 è presto cioè è un po' presto è un po' presto per la domenica è prestissimo brutale ormai oramai ho questo ritmo pure quando non la fai ti svegli a quell'ora la domenica la domenica gli altri giorni tranquillo poi scusa cioè se tu il sabato sera esci cioè come fai poi torni prima un po' più da giovane facevo il dritto facevo la tirata la tirata adesso sì ho provato ma no faccio fatica l'ultima mezz'ora se non hai dormito la notte stai proprio là poi sei arrivato alle notizie quelle un po' così dici ma quanto quanto manca faccio fatica certo ma i giornali li compri tutti la domenica tutti 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 tranne gli sportivi di fatti la mia frase è tutti tranne gli sportivi posso fare dei nomi di giornali sì anche per esempio la verità certo che ne pensi perché la rassegna stampa comunque serve non è leggere i giornali è metterli a confronto quindi il giornale col titolo estremo nel caso della verità no molto un po' tra il complottismo l'estremismo di destra però ipernazionalista un po' razzista eccetera ti aiuta a focalizzare una posizione estrema che magari altri giornali infilano in modo un po' più paludato ma che comunque magari la mettono lo stesso e quindi oppure ti trovi a vedere come alcune cose magari le valorizza un giornale di destra ma anche un giornale di sinistra perché insomma i ragionamenti che stanno dietro alla lettura della stampa il vantaggio per me della stampa poi se non è stampata e uno se la legge su internet poco cambia però l'articolo contiene anche dei ragionamenti delle valutazioni invece la notizia sparata sui social è proprio il titolo e il titolo non corrisponde al contenuto cioè quasi mai corrisponde al contenuto quindi secondo me è proprio malsano per la formazione del pensiero fermarsi ai titoli di quello che vediamo magari condiviso sui social non perché ci sia qualcosa di male nei social ma perché non corrisponde poi il contenuto ma anche celebri testate se poi leggi l'articolo cioè il virgolettato del politico che leggi la frase e poi leggi l'intervista e non l'ha detta quella frase questo capita molto spesso come si dice così lo fanno perché sì per tipo clickbait però sì per leggere così non c'è un modo cioè ormai si fa non è che dici abbiamo scoperto non lo fate più quello ormai è abitudine e quindi niente e invece il fatto quotidiano com'è secondo te il fatto quotidiano diciamo la cosa positiva è che comunque è un po' di così di inchieste sul potere magari un po' troppo al traino della magistratura però qualcosa viene fuori so le nomine questi questi affari queste reti di potere che il quotidiano più paludato preferisce non raccontarle troppo poi personalmente alcune cose diciamo l'antiamericanismo ideologico questa roba qua non mi convince quindi tu per fare la rassegna stampa comunque devi cercare il buono in ogni giornale il cattivo anche nel senso magari sottolineare che viene detta una cosa che quella cosa non ha un rapporto con la realtà o è completamente so adesso faccio proprio l'esempio più stupido che mi viene in mente di questa questa settimana quando noi abbiamo raccolto le firme sui referendum sull'eutanasia e sulla cannabis abbiamo raccolto le firme di due milioni di persone fino a quando non le abbiamo raccolte i giornali non parlavano di questa cosa domenica Fratelli d'Italia e la Lega hanno fatto qualche tavolino contro l'utero in affitto e c'erano gli articoli di firme che al contrario di quelle del referendum non valgono nulla perché la firma del referendum è una firma prevista dalla Costituzione che ha un valore formale e delle firme che raccoglievano rivolte a chi? A se stessi perché stanno governando sono in maggioranza sono al governo quello che loro chiamano l'utero in affitto tra l'altro è già proibito quindi è proprio una notizia farlocca di un'iniziativa farlocca che però prende uno spazio e questo credo che sia uno dei problemi della della democrazia proprio la conoscenza sui mezzi di informazione si trova solo quello che è mosso dalla politica ufficiale dalla politica di chi è eletto da qualche parte si presenta alle elezioni quando la democrazia dovrebbe essere una cosa tra un'elezione e l'altra dovrebbe essere la partecipazione dei cittadini tra un'elezione e l'altra ma infatti poi quel referendum che è stato fatto la raccolta firme sul fine vita poi lì è arrivata la corte costituzionale e ha detto che non si poteva fare che era incostituzionale ovviamente adesso non sto a tediare sulle motivazioni a mio avviso completamente abusive che Giuliano Amato presidente della corte costituzionale ha usato per impedire ai cittadini di votare però così è stato e quindi per adesso rimane così non c'è modo di fare qualcosa allora su l'eutanasia e sulla cannabis diciamo che con questo Parlamento pensare che questo governo questo Parlamento aprano le possibilità direi di no quindi che strada c'è la strada che abbiamo perseguito all'inizio quella dei ricorsi e della disobbedienza civile quindi continuiamo ad aiutare le persone che vogliono andare in Svizzera cioè che vorrebbero stare in Italia ma che sono costrette ad andare in Svizzera per ottenere quello che a nostro avviso sarebbe un loro diritto ottenere ci saranno dei nuovi processi la speranza è che la corte costituzionale possa allargare i criteri delle condizioni attraverso le quali un paziente può essere aiutato a morire senza soffrire bene sì c'è una no di nuovo il mio ruolo si devi cambiare comunque qualcuno deve farlo stai oggi hai giustamente condotto tu io invece ti faccio un'altra domanda te lo dico subito più leggera che è ricorrente in questo podcast noi chiediamo qual è qual è il tuo dittatore estero preferito diciamo estero chiaramente perché se no facciamo anche una premessa dittatore preferito cosa intendiamo non stiamo qua a parlare bene dei dittatori delle dittature assolutamente no questo è un podcast anche comico però se ti tieni in mente tra tutte le numerosissime tragiche drammatiche dittature ci sono state uno che dici questo qua mi ha colpito di più il mio preferito parametri liberi tuoi puoi scegliere tu come meglio non è facile non è facile andiamo sull'estero si si va bene no lo dico perché allora uno che è stato veramente terribile però aveva proprio un nome che proprio simpatico che suonava bene era Pol Pot Pol Pot che uno diceva Pol Pot cioè da bambino Pol Pot e mi sembrava anche una cosa bella si faceva ridere come buffo simpatico e lui però aveva alcuni uno di questi che a un certo punto la sua idea era Pol Pot stava credo per politique potenzielle una roba del genere e la sua idea era che il ceto intellettuale fosse di ostacolo al potere delle masse quindi che cosa ha deciso di fare di ammazzare la gente con gli perché lo chiedo a te con gli occhiali con gli occhiali con gli occhiali perché se tu avevi gli occhiali era sintomo del fatto che facevi un lavoro per cui dovevi leggere o che comunque sapevi leggere però si poteva vabbè comunque lui doveva andare un po' all'ingrosso non è che poteva fare una legge sofisticata l'esame se sei intellettuale o no una volta che lo sai per difendersi basta che fai così e fai io no perché lui girava e faceva che lettera è questa e tu quella è un R comunque si dice che è così però non potrei dire che è il mio preferito no certo no no ma appunto secondo parametri puramente comici puramente comici bellissima risposta per il pot sta andata pochissime volte pochissime volte secondo me tipo questa potrebbe essere massimo la terza volta e comunque ogni volta per motivi diversi andrebbe un po' recuperato andrebbe un po' recuperato magari ci si arriva la cosa degli occhiali io l'ho preso un po' in seccavia no però mi piace una cosa che partono è una tortura capito che te quella grossa fai E poi quelle più piccole già cominci oddio A e questa B giusto e poi quella sotto sei finito capito Stan sì ma non c'è un'altra domanda un'altra rubrica vogliamo inaugurare questa rubrica nuova proviamo vai e dove vai in vacanza questa è stata che bello sono orgogliosissimo di te guarda questa è bellissima non ho parole ma come ti è venuta stupenda originale ma bella proprio il mio obiettivo è quello che adesso io ti faccio sempre questa domanda e quindi mi regalano un viaggio ah speri che qualcuno sul web sul web ti pago un autobus un autobus non lo so qualcosa se dico che sto a casa a tuo punto cade in depressione per di tutto ho paura di pizza tante volte dovrei andare in Bretagna quest'anno in Bretagna va bene quanto ti danno sulla Bretagna non lo so è la prima volta che lo faccio ho il lavoro con te speriamo che mi diano come mai la Bretagna me ne hanno parlato bene ci sta la fonduta che ci sta le ostre che è fonduta le ostre che si credo è bello maree mareggiate l'oceano scogliere spiagge è bello si e invece l'anno scorso dove sei stato questa nuova rubrica sta ancora oliendo gli ingranaggi però vedrai che da qualche parte va a parare è veramente bello non lo tengo più allora di base di base nel senso dove sta mia figlia a Pietrasanta quindi diciamo anche lavorando però mi spostavo in Versilia da quelle parti e poi ho fatto qualche giorno della via francigena che si cammina cioè teoricamente si può camminare da tipo da Oxford a Gallipoli o Santa Maria di Leuca io ho fatto un pezzettino molto piccolo che pezzetto hai fatto? da Siena a Radicofani tre giorni bello ma come pellegrinaggio è tanto battuto? allora nel mio caso non l'avrei chiamato pellegrinaggio però come percorso non abbiamo ma era agosto per cui bisognava essere proprio no non c'era nessuno no? io a me io ho fatto il cammino di Santiago che invece ad agosto è proprio una marea di gente ancora non è non decolla non è popolare ma c'è una sezione marketing ripetibile non ci spingono molto sì sì ma forse con lui adesso faranno un lavoro la spingiamo bene la fa decollare ma tipo dove dormiva a casa delle persone che abitano lì oppure no ma ci trattavamo bene nel berghetto ah vabbè si può farlo lavorare con questa là in Toscana dici oh dai bellissimo bellissimo ho fatto un po' di Puglia vuoi sapere i dettagli? sì sì dai perché no vai tanto adesso lo lascio andare tanto siamo quasi in chiusura sì sì lo provo qui unchained in Puglia va bene tu dove vai per capire no perché io devo andare allora dovrei andare in Brasile ah vabbè capito sì che poi fa le domande e poi ti dice io comunque in Brasile eh perché c'è la mia ragazza mi costringe a fastidare ti costringe proprio così uno costretto no non c'ho io lì in Brasile e quindi dovrei andare lì però mi dicono tutti che ti rubano le cose l'ho detto l'ho detto anche ieri a Maurizio Battista ma ho detto no no pura Roma derubano le cose pura Roma derubano le cose è vero effettivamente eh però lo so io sono stato tipo 18 ore in Brasile sono andato a Brasilia per una conferenza stampa stavo facendo tutto il tour del Sud America sulla legalizzazione delle droghe con Marco Perduca eh però non ha funzionato cioè non l'hanno legalizzato però non l'abbiamo legalizzato l'Uruguay è legalizzato ecco siamo stati anche in Uruguay l'Uruguay ha legalizzato l'Uruguay è molto interessante perché poi aveva fatto pure la cosa all'inizio costa pochissimo così togliamo dal mercato quella illegale hanno fatto secondo me delle cose interessanti e poi avevo letto forse pure il Messico adesso sta andando in quella direzione sì che è ancora più rivoluzionario essendo loro sì anche perché lì è morta più gente in Messico che in Iraq negli ultimi anni perché la guerra ai narcos in realtà è diventata una guerra dei narcos contro lo Stato e tutto questo come risultato del proibizionismo secondo me sì infatti quando avevo visto che il Messico andava in quella direzione ho detto vabbè se c'è un paese nel mondo che ha tanto bisogno di di andare in quella direzione è proprio il Messico invece Stefano va in Brasile ma come sempre per altri motivi che motivi? no che motivi la tua ragazza ti costringe sicuramente non per non per la droga no infatti no no beh sei soddisfatto di questa rubrica che hai lanciato? io spero che che ne so Alpitour che ne so qualcuno te proprio oramai pensi solo sì sì ormai vabbè vai avanti oramai sei è la tua sera questa c'è una guida che mi porti in giro che non mi rubino le cose io voglio che mi rubano le cose fondamentalmente questa è la cosa io intendevo vai avanti con la puntata ah scusami con la mia vita no 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 niente abbiamo è rimasto ti ricordi no no lo vedo c'è un cane tu bravissimo questo quello stavo per farlo io invece l'ha chiesto lui questo mi interessa a me tu c'hai un cane sì vorrei saperne di più allora sono due bassottini meravigliosi pelo lungo pelo corto pelo lungo bellissimo un maschio e una femmina luigi e margherita sono pazzo di loro com'è com'è questo perché questi nomi come reali di francia sì veramente per quello no no come potrebbe essere no no nessuna responsabilità io su queste scelte su queste scelte giusto sono scelte che ho subito sì però come le vacanze in Brasile felicemente poi alla fine li voglio bene ai ragazzi luigi e margherita bellissimo bei nomi guarda poi i nomi degli umani ai cani mi piacciono molto e ai bassotti in particolar modo gli stanno proprio a pennello Luigi perché fa il baffo no certo il baffo sei d'accordo? sì adesso che mi hai fatto questa cosa l'ho proprio visto ho detto certo Luigi è normale anche sugli sponsor può andare questa dei cani se vogliamo regalarci dei cani dici no non ci hai regalato i cani prendilo tu al massimo come a Mario Monti che gli regalarono il cane chissà che fine c'è ancora il cane forse questo un messaggio che si può dare non regalate i cani cioè non è un bel regalo il cane nel senso è un'imposizione ma Monti serviva in quel momento lì per no per renderlo un po' più umano popolare umanizzarlo un po' e che ne è stato poi del cane? è stato un noleggio probabilmente credo foster home per il cane hanno trovato un cane vabbè diamolo a Monti poi si vede poi si vede che facciamo però è così non regalate i cani se non proprio tipo come a te ti regalano le vacanze in Brasile sono un anzianissimi i cani molto vecchi che tempo di settimane poi si risolve da sola la situazione 16 anni o più quindi sì sì va bene guarda forse su questo messaggio su questo messaggio di speranza di speranza io andrei no domani domani che fai? domani domani allora devo andare in Sicilia domani? sì domani va bene? sì sì si mangia bene Sicilia sì sì e aspetta in che città? allora devo andare in provincia di Messina poi a Catà e poi a Palermo praticamente quello che stiamo cercando di fare è siccome a livello nazionale ci si può aspettare poco dal punto di vista delle riforme diciamo dei diritti civili le regioni hanno sempre più potere per cui per esempio ero in Abruzzo lunedì e martedì per raccogliere firme su una legge di iniziativa popolare regionale perché la cosa che ho spiegato prima cioè che oggi è già legale in alcune condizioni l'aiuto alla morte volontaria però non c'è un termine quindi il sistema sanitario si rifiuta di rispondere alle richieste dei cittadini nelle marche Federico Carboni che è una persona che abbiamo aiutato ha aspettato due anni per ottenere la visita dei medici che dovevano dirgli che lui era in quelle condizioni sofferenza insopportabile patologie irreversibili allora far aspettare un malato due anni per fare questa verifica significa di fatto fare tutto il possibile per impedirgli di esercitare il suo diritto quindi noi come associazione Luca Coscioni abbiamo fatto una legge regionale liberi subito per imporre alle regioni dei tempi certi per le risposte ai malati 20 giorni cioè in 20 giorni la regione il sistema sanitario è obbligato a visitare il paziente verificare se ha diritto a questo tipo di aiuto e poi attuare questo tipo di aiuto quindi sto un po' girando l'Italia in questo momento si sta raccogliendo in Piemonte in Friuli in Abruzzo in Emilia Romagna e spero che inizieremo la raccolta anche in altre regioni e ci sono regioni che rispondono diciamo meglio di altre alla tematica o peggio di altre? Allora la cosa politicamente sorprendente è stata il Veneto dove finora abbiamo trovato una buona accoglienza e risposta dal presidente della regione che comunque è della Lega che è Zaia che però ha preso posizione contro la linea ufficiale del partito su questo d'altronde l'esperienza che ho avuto io e me lo dicono anche i sondaggi è che sulla legalizzazione dell'eutanasia sono a favore la grande parte delle persone a destra tanto quanto a sinistra per il semplice motivo che sono questioni che la gente ha vissuto sulla propria pelle con un familiare con un amico quindi non è che aspetta che arrivi il capopartito a dirgli come si deve comportare come la deve pensare sono cose che hanno vissuto per cui il gazzettino di nord-est ha fatto un sondaggio a nord-est 82% di favorevoli elettori di Fratelli d'Italia 80% di favorevoli Lega 78% di favorevoli addirittura la stragrande maggioranza dei praticanti saltuari delle funzioni religiose quindi non è vero che sono temi divisivi cioè sono temi divisivi per i capi dei partiti ma per la gente poi non vuol dire che tutti sono d'accordo però intanto le persone sanno fare la differenza tra quello che sceglierei io personalmente e quello che impongo a tutti con la legge che è come sull'aborto un conto è dire io non abortirei e un conto è dire io ti metterei in carcere se abortisci ecco la stessa cosa è sul fine vita la stragrande maggioranza delle persone che magari non lo farebbe o avrebbe dei dubbi o avrebbe paura a affrontare una decisione del genere ma non si permette di dire ah no condanniamo fino a 12 anni di carcere se qualcuno va a aiutare qualcun altro che è il principio fondamentale dello stato laico invece purtroppo il dibattito della politica è che se qualcuno dice legalizziamo l'eutanasia è a favore della morte se qualcuno dice legalizziamo le droghe ah vuole che la gente si droghi o vuole che la gente abortisca ed è un imbroglio terminologico che però fa molta presa perché se si vendono i titoli dei giornali e dei telegiornali questa differenza non viene fatta per cui se uno dice che legalizzerebbe quella cosa allora è un fan del fatto che si faccia così e forse proprio su questo su questo punto finale io chiuderei la puntata e quindi vi chiedo un altro applauso per Marco Cappato grazie grazie a voi se vi andrà di seguire questi temi ci vediamo attraverso l'associazione Luca Coscioni i nostri siti i nostri social ancora un applauso all'ospite a Stefano Rapone alla Santeria a The Comedy Club e a voi che siete venuti siete tantissimi grazie mille ciao a tutti ciao a tutte ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao